Ci portiamo all'interno del Miradolz Rio e qui c'è una bellissima struttura che comunque protegge dal vento e dalle intemperie. Siamo usciti fuori in un balcone sul baratro. Qui si vede ancora molto bene l'origine vulcanica delle rocce. Esta es la isola pequeña a norte, l'isola chiamata La Graziosa. La Graziosa La Graziosa La Graziosa